ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo decimo episodio della ctm minimalist sempre in compagnia di metano e del bel jacorollo esatto ricordo invece ai nostri iscritti che se vogliono vedere l'episodio precedente lo trovano sul canale di jaco mentre il prossimo sarà sul canale di metano a questo punto ragazzi voglio fare una cosa prima di partire oggi infatti volevo craftare il blocco di ferro che così possiamo aggiungerlo abbiamo trovato la farm esatto abbiamo trovato la farm allora andiamo a craftarci questo blocco di ferro eccolo qua e volevo anche incantarmi o meglio mettere un incantesimo su una parte della mia armatura e volevo usare protection 1 quindi ho quale incudine allora mettiamo l'armatura volevo utilizzare il corpetto ok allora che ci vende la lava e questo e mi sono incantato anche l'armatura adesso vado a mettere il blocco di ferro e poi siamo pronti per partire verso l'intersezione 3 sperando che non sia troppo difficile ovviamente esatto iron block eccolo qua perfetto ok allora l'altra volta avrete visto che abbiamo trovato questo passaggio segreto che ci teletrasporta direttamente alla terza intersezione e quindi andiamo subito aspetta che un genio mi ha buttato nella lava aspetta un genio è sotto la barca e tre tossegano sono nella lava non è colpa mia comunque io vuoi ricordare che teoricamente noi abbiamo già messo il blocco di blocco quindi teoricamente la serie c'è l'episodio può finire qua ciao ok ragazzi mentre aspettavamo iaco sono tornato un attimo a casa perché ho notato che la mia spada era completamente usurata e l'ho sistemata con l'incudine adesso finalmente possiamo andare a recuperare la lana grigia allora piano piano entriamo perché ovviamente vai avanti perché mi viene da ridere sì sì certo allora qui c'è una freccia che indica di andare a destra devo fidare vedo già delle ceste no ma scusa qui c'è una freccia la vedi veniamo dall'altra parte e proviamo magari una trappola c'è una cesta qua dietro che vado a aprire sono anche gli spunti ragazzi ragazzi 4 indietro e il metto e cose di e altri la pesata e poi tutta l'armatura con peta di oro facciamo in un labirinto ma mi sa che è un labirinto del fauno un labirinto con dei creeper lo tenga a distanza eh ma allora non durerà molto e infatti si distruggi tutto comunque vieni a prendere lasciato qua oh ragazzi no c'è un creeper c'è un creeper creeper dove è? oh mio dio oh mio dio devo rompere lo spawner ma vai via da me ragazzi ci sono i wither no i wither no i wither i wither i wither qua avvelenano esatto ma non levano molto visto che levano cercato il cuore eh ok adesso vado a rompere con lo spawner qua bravo ok no c'è un altro di lato ma dai qua c'è uno spawner via ahia ok lo spawner lo rotto madonna no continua a spawnare da qualche lato ragazzi e adesso vediamo ok il wither è andato creeper 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 e giù che esplode la cesta è questa qua l'avete presa no prendetela voi dai no ma ci sono i creeper qua i creeper i creeper la cesta si dove sono finito uh c'è la nether ward qua benissimo e c'è anche mia carolla che sta per esplodere no distrutto il creeper distrutto lo spawn del creeper ti accenderà uno che l'ho scappato io ora oh attento che ti arriva lì dio mio ragazzi stateci lontani allontanatevi subito mi ha avvelenato mi ha avvelenato infatti bisogna usare sempre il tarco ragazzi io devo spostarmi da qua perché dovevo uccidere dovevo togliere ma io scappa ce l'avevo io ma che cavolo oh cos'è questo a un coniglio ragazzi sto cercando di capire dove sono gli spawner perché questo è veramente un labiritto a un altro wither che mi ha avvelenato mio dio cos'è questa roba creeper creeper rega aiuto qua c'è un coso che scende qua c'è un coso che scende un altro questo vieni qua vieni qua vieni qua ragazzi non ce la faccio guarda guarda dove siamo un coniglio ho visto anche il coniglio nero ma è la tana del bianconiglio questa no ma guarda qua oh mio dio cos'è adesso vado a vedere no 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 sensical nether light green a no qui c'è la lana ah no infatti ragazzi io ho visto un altro posto di tanto questa cesta qui prendetela e io prendo un po' di torce vabbè possiamo fare un po' di piante prendo un po' di torce ho trovato io qualcosa di strano venite da questa parte mi guiderò facciamo una cosa adesso devo trovare quella a questa parte venite guardate qua c'è un passaggio segreto a sinistra è appunto stai attento e qui c'è un'altra cassa è piena di pozioni ragazzi questa cassa dovete venire di cosa di tutto di ailing e di strength di forza di swiftness di regeneration un pochettino occhio che c'è un wither madonna ok t'ho salvato un po' di forza ragazzi a me ha dato le wither skeleton vabbè buono la testa devo lasciar qui qualcosa però non avete lasciato solo 9 tranquillo se non c'è spazio le prendo io ma lascio qui questa cosa qui che non mi serve prendiamo il risultato rispondi di scheletri per prendere tutto prendo io no non ho finito non ho più l'inventario e sta arrivando un altro wither ok lo che ha preso tutto io quello che avanzava per farsi ed è lo spawner di wither ancora in giro no li uccisi li uccisi era qua erano qua allora ah no ma c'è ancora uno sotto mi sa non c'è un altro qua aspettate ok e gli acqui ce l'è un po' dietro ok da qua si scende venite ci sono altri sotto infatti ah no eccolo qua come si fa con l'arco con l'arco aspettate non fate nulla c'è la tua anima anch'io l'arco no no l'acqua no l'acqua no ci vado io in spedizione devo uno sguardo da veloce poi salgo c'è qualcosa qua di strano o c'è un mischiare di con l'armatura ci sono ragazzi facciamo così ci affacciamo tiriamo le frecce e ce ne andiamo vediamo se riesco a scendere no ci sono cose che volano le cose che volano sono scheletri con l'armatura perché non ci buttiamo non volano a non hanno che braccia e gambe per potenti dentro per potenti abbiamo le posizioni ragazzi ok perfetto io ci sono dentro per potenti ragazzi ve lo dico vabbè andiamo ok fuori a tutto spiano via tutto spiano ok io prendo subito la rigenerazione ma sono specie di fantasmi questi non so come definirli qua 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 ragazzi aiutatemi ragazzi aiutatemi che sono anche avvelenato vai 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 guarda che qua c'è scappa tranquillo faccio la rigenerazione ok 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 qui c'è uno sponer sperato lo smeraldo qua dietro ragazzi ecco lo sponer rega sponano da qualche parte ma non qua sotto le scale no qua dentro ci sono le vedi qua dentro ci sono i spawn io non ho capito dove qua dentro ok sì sì l'ho visto l'ho visto perfetto vieni qua tech che c'è lo smeraldo dove qua arrivo oh mio dio ragazzi no aspetta 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 sono morto sono morto sono morto tantissimo ve lo giuro cazzo sono nella lava no 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 metano muore metano muore finiamo di esplorare qua sì jaco dimmi dove erano le cose che non è qua cazzo ragazzi finalmente metano muore e voglio dire qua c'è l'hai il piccone sì il controllo nella cassa e vi dico fidatevi che in punto e non è fattibile fidatevi non lo è ma fidatevi nelle casse sai cosa c'è è una cripta ci sono ossa testa di scheletro e polvere d'ossa è fighissica nell'altra cosa c'è vediamo io sono quasi tornato eh però poi sono sempre wither ok perfetto ok qui non c'è più niente ok ci sono non ci sono riaccomi non c'è che io controllerei dietro a queste ragazzi dietro queste cose infatti c'è un passaggio è lì dove che ero andato io lì aspetta non c'è l'armatura no 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 non ci sto andando ci sto prendendo i creeper così no no dico a coso a jaco ma qua c'è un bordello di roba di chi è questa era una trappola aperta la cassa esplosa accidenti buono questa roba previsto che figo no 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 aspetta aspetta tu non sei nato la dietro vero no rega questa armatura qui da protection 2 un breaking 2 5 per cento di vita in più e speed meno 5 per cento ma mi esplosa la cassa in faccia non ho più spazio nell'inventario ragazzi qua dietro venite devo togliere anche qualcosa ok andiamo che tutti insieme ragazzi aspetta aspetta buttatevi con le pozioni di quei cretini lì dei scheletri io sono pronto con la pozione di regenerazione esatto esatto aspetta 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 però ma è un witter aspetta uno scheletro witter no aspetta fidati c'è il bordello ma non sto facendo niente sto solo prendendoli da lontano sì sì ok allora spacchiamo tutto tanto si può spaccare i blocchi esatto spacca i blocchi piano piano vediamo cosa c'è che ha probabilmente rossi tutti io prima con le la mia esplosione no c'è il creeper che mi esplode in poche si quali tiriamo giù così ottiene lo sponer la lo tiriamo giù cosa per trovare il mio primo c'era al mondo aspetta e ragazzi se ci sono delle torce da sol dire che c'è qualcosa giù a cuocere la lana ragazzi guardate qua davanti ok o guardate qua vedete che la vita l'abbiamo trovata allora vado a prenderla per vedere se no vabbè raga ma qua non c'è nulla per forza perché c'è il muro dietro ma la lana dobbiamo passare di qua e si butto l'acqua butto l'acqua ma è quello che sono morto io questo blocco che l'ho messo io ma cosa fa ma spostatevi un attimo infatti stavo andando a prenderla una testa come al solito ci ho lasciato un fiorellino io eh per ricordo lana grigia allora io lascio qua che cosa puzza questo posto qui quindi guardo se c'è qualcosa sotto però non sa mai io tolgo bo tolgo le ossa non mi faccio niente no eh trasformala in polvere così almeno eh ma non ho più spazio nell'inventario ragazzi ho finito l'inventario vabbè lascia tanto siamo pieni a casa di ossa direi che abbiamo ripulito anche questa zona eh però io vorrei fare una cosa c'è qualcosa nascosto eh vorrei fare una cosa di cosa stupida cosa stai facendo perché vuoi fare una cosa stupida ma non riesce troppo basso forse così no sempre troppo basso così qui c'è gli alberi alti vabbè tristezza ma queste le avete bollate voi che vuol dire bolla ah sì 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 in teoria vedi che robaccia quindi va bene e qua abbiamo visto tutto perfetto in teoria abbiamo visto tutto eh ok ragazzi guardate qua abbiamo trovato mentre stavamo tornando a casa questa cassa nascosta con dentro un sacco di lapislazzoli e anche una mela dorata quindi ci servono sicuramente mi sembra aver capito tec che sotto ogni intersezione ci sia una ceste e a questo punto credo proprio di sia perché sempre lapislazzoli questo punto credo proprio di sì per incantare tutto apposta a presto devo scendere di qua quindi teletrasporto teletrasportiamoci a casa forza olè l'hai presto teletra è carino a me non funziona però perfetto allora guardate un po cosa faccio adesso col monumento vado a mettere la lana grigia e già che ci siamo ragazzi volevo mostrarvi un'altra cosa che abbiamo trovato qualche episodio fa non so se l'abbiamo fatta vedere ma abbiamo recuperato ben quattro uova l'avevo fatto vedere io nel mio episodio però effettivamente non ho capito se trattassero di uova di maiali che andiamo a mettere volevamo metterle nella parte qua sopra della macchina voglio sponare a moto dentro il recinto mi raccomando esatto dove c'è il recinto quindi vado qua sopra qui c'è il nostro recinto e hanno detto che nel recinto ci sta anche una grata per entrare sì dalla parte di qua guarda qua eccola qua si fa così e vabbè ok facciamo sponare questi maiali almeno un po' di cibo due tre facciamoli subito accoppiare guarda sì sì accoppia accoppia guarda bellini che fanno cose sporche proprio ma 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 ne avevo già due in più perfetto dobbiamo parlare di censura adesso ragazzi eh ovviamente ovviamente ok guardali che volevo non uscire ah c'è una carta in mano perché sono un genio eh infatti va bene dai a posto ok ragazzi siamo anche oggi giunti al termine di questo episodio come vedete abbiamo recuperato un altro pezzo di lana a questo punto ragazzi il prossimo episodio sarà come sempre sul canale di metano che trovate in descrizione vi salutiamo e al prossimo video ciao ciao a tutti